Allora, ragioniamo per punti. Il primo punto è quando tu, istruttore, sei in palestra con i bambini, non devi dare per scontato che ti stiano ascoltando. Il punto numero uno è non dè per scontato che ti stanno ascoltando. O che ti capiscano quello che tu dici. Non è mica detto che tutti capiscono tutto quello che dici, perché se non sai comunicare, loro non capiscono. Quindi la comunicazione recita una parte molto importante nel rapporto empatico tra bambino e istruttore. E qui è dove la comunicazione recita una parte molto importante nella relazione empatica tra l'istruttore e il bambino, perché non devi dare per scontato non solo che ti ascolti, ma che entiendi che ci stai dicendo. Allora, se non sei empatico, non insegnare un bel niente. Allora, io dico, ma questo non solo nel minibasket, dappertutto, a scuola, nel mondo del lavoro, eccetera.